Dimazione. Azione. Allora, Garbi, mi dica di cosa ne pensa delle pannelli in Sicilia. Le pannelli in Sicilia si può dire che sono la mafia, perché vengono messe nei posti più belli della Sicilia, la gente viene in Italia per vedere la bellezza dei passaggi, e tu invece di vedere un campo, gli elementi che sono le tradizioni della civiltà contadina, vedi uno stronzo di cazzo di 150 metri che viene creatato... Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? che devenite il mio discorso il programma e non mi faccio lasciarle qua quando di chiedere scusa li chiedere sotto la motorini finché lei non chiede la scusa agli ebrei fate morire il suo sogno ma una machista tra la manacista ари non nella mom Non è la mia donna! Non è la mia donna! Non è la mia donna! E la mia donna!